Buongiorno, sono Eleonora Potenza della Casa Minicola Rubattorno, che ha sede a Quarrata. Anche quest'anno parteciperemo con molto entusiasmo alla seconda edizione della Toscana in Bocca. Porteremo i nostri vini, quindi potete degustare il nostro Chianti di Servo 2011, il nostro Chianti 2013 e il Vinsanto e la Grappa fatta con i nostri vinacci dei Chianti. Vi aspettiamo la Toscana in Bocca dal 30 aprile al 3 maggio, dalle 11 di mattina alle ore 24. A presto! Grazie! 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 Grazie!